Coronavirus ancora un ricovero in malattie infettive, al Cardarelli i pazienti sono 6, solo 4 contagi, positività all'1,3%. Il gemello riferimento di ricerche e sviluppo per il centro sud, così l'amministratore di San Stefar, Ercole Core, che garantisce sulla qualità dell'investimento di Responsible Capital AG, negoziazione, indirittura d'arrivo. Oltre il 90% dei docenti molisani in possesso del Green Pass, ma la mancanza di concertazione e le minacce di sanzioni non piacciono ai sindacati che sottolineano la scuola non si riapre per decreto. Ordinanza del sindaco di Campobasso Gravina per prevenire gli incendi, vietato a accendere fuochi fino al 30 settembre, previste multe fino a 10.000 euro. San Vincenzo al volturno come Pompei, lo ha detto il professore Richard Hoggs, intervenuto ad un incontro per utilizzare i fondi del PNRR per valorizzare l'importante sito archeologico molisano, posto unico in Europa. Colpo di mercato del vasto Girardi firma l'attaccante Marco Mingiano, ex crotone Gallipoli, Lupi e Mausso si presenta, Campobasso scelta giusta, basket femminile Serie A di Ramata la prima giornata, la Magnolia affronterà Empoli. Buonasera, ben trovati con la nostra informazione. In apertura parliamo di coronavirus con l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale del Molise. Ci sono 4 nuovi contagi su 317 tamponi rifertati, tasso di positività che scende all'1,3%, ma c'è un nuovo ricovero al Cardarelli, una persona di Santa Croce di Magliano ricoverata in malattie infettive ed agenti, incontrata Tappino, salgono a 6 di cui 1 in rianimazione, 5 guariti e così i casi attualmente positivi sono 157, 2145 i soggetti in isolamento. Ad ora parliamo del gemelli Molise che deve diventare riferimento di ricerca e sviluppo per il centro Italia. Questo è il progetto a cui San Stefar sta lavorando da tempo insieme al nuovo socio Stefano Petracca che con il fondo Responsible Capital sta negoziando l'acquisizione del 90% della SPA che gestisce il centro di Tappino. Ce ne ha parlato l'amministratore di San Stefar, Ercole Core, intervistato da Rita Iacobucci. Sentite. Cinque centri in Molise, oltre a Termoli e Campobasso ci sono Larino, Montenero di Bisaccia e Santa Croce di Magliano. San Stefar e CRM rappresentano un gruppo che sta crescendo ma l'acquisizione del 90% delle quote di gemelli Molise e SPA da parte del fondo Responsible Capital ancora in corso di definizione ma la negoziazione esclusiva è stata deliberata dal Policlinico Romano al momento unico detentore del centro di Campobasso sarebbe un balzo notevole. L'amministratore delle due società che si occupano di riabilitazione Ercole Core spiega che un progetto a cui lavora da tempo con Stefano Petracca, presidente del fondo svizzero che sta scalando il gemelli e socio da febbraio di San Stefar. Concretamente è cambiata proprio la filosofia del servizio sanitario che noi offriamo. Noi facciamo riabilitazione domiciliare e ambulatoriale, abbiamo rinnovato il parco tecnologico, stiamo facendo della formazione per tutti i nostri dipendenti, stiamo aumentando i nostri dipendenti in questo senso, stiamo sviluppando anche una parte privata perché c'è il bisogno di salute molto forte, soprattutto molto forte sul territorio e per cui stiamo facendo tutto questo e facciamo ricerca sotto questo aspetto. Oltre che sviluppo abbiamo proprio in questi giorni fatto un contratto in cui abbiamo acquisito tutta l'infrastruttura per fare la teleriabilitazione a distanza. Il fine qual è di tutto questo? È di creare comunque una rete che sia sia territoriale che ospedaliera, che diciamo si possa compenetrare l'una nell'altra e dare un servizio di grande qualità oltre che di grande scienza, di grande ricerca. Per questo noi stiamo lavorando oramai da tempo. L'esperienza che noi abbiamo fatto con Responsible Capital è questa qui ed è questa che si farà poi con i gemelli o con altre strutture su tutto il territorio, sia molisano che nazionale. Bisogna creare una struttura di livello scientifico molto elevato e quindi bisogna fare sviluppo in questo senso in modo tale che questa sia un'opportunità per creare un centro di alta eccellenza che faccia da riferimento per molte prestazioni per tutto il centro Italia. Un progetto per il quale, dice Core, ci si aspetta condivisione ora da parte di tutti gli attori istituzionali e che può garantire, secondo l'amministratore di San Stefano, insieme al mantenimento del coordinamento clinico che il gemelli ha assicurato, le prestazioni di alta complessità che la struttura eroga in via esclusiva in Molise. Pausa di Ferragosto a parte per l'avvio del nuovo corso mancherebbe ormai poco. Sono stati fatti dei grandi passi quindi siamo, come dire, agli sgoccioli della situazione perché una volta che si è deciso da parte della fondazione, quindi c'è stato un consiglio di amministrazione, c'è una delibera, quindi c'è una decisione in atto, adesso chiaramente si lavora sulle carte, quindi sui contratti, su come devono essere fatti, su come vanno messe tutte le varie condizioni, ma soprattutto su come vanno messe poi alcune cose che riguardano poi lo sviluppo futuro, per cui io penso che i tempi non siano lunghi. E ora parliamo del Green Pass a scuola, sindacati sul piede di guerra, la scuola non si riapre per decreto, le parole del segretario della FLC CGL Pino La Fratta, sentite. La decisione di adottare il Green Pass per il personale scolastico con relative sanzioni in caso di inadempienza è stata assunta dal governo in modo unilaterale, nonostante amministrazione scolastica e sindacati siano da tempo impegnati a trovare soluzioni utili per far ripartire la scuola in presenza. La scuola non si riapre per decreto, tuonano in un comunicato unitario FLC CGL, CISL Scuola, Will Scuola RUA, SNALS, CONFSAL, GILDA, UNAMS e ANIEF. In una categoria già vaccinata al 90%, il provvedimento assunto sta alimentando forti tensioni, come spesso accade quando si assumono decisioni frettolose e radicali, inadeguate, accogliere la complessità delle situazioni e non affrontando di contro i problemi atavici che invece attanaiano la scuola e che restano irrisolti e mettono a rischio la sicurezza di docenti e alunni. In termini percentuali quanti docenti sono al sicuro, hanno il Green Pass? Allora, noi sappiamo, i dati ci dicono che il 94% dei docenti in Molise ha addirittura già la seconda dose. Se noi andiamo a mettere, aggiungiamo a questi persone fragili, coloro i quali per patologie loro non possono vaccinarsi, abbiamo una copertura massima, quindi non è questo il problema. Più che altro ci dà molto fastidio e non tolleriamo questa campagna mediatica dove c'è una deriva sanzionatoria, quasi a far capire che il personale squastico non si vuole vaccinare e quindi addirittura c'è bisogno di una sanzione, la sospensione dello stipendio. Noi pensiamo che non è questa la strada e soprattutto, per esempio, non è neanche la strada quella di dare responsabilità ai dirigenti scolastici di addirittura erogare sanzioni quasi come fossero degli ispettori volti al rispetto delle regole. Non è questo il mondo della conoscenza che conosciamo e che ha dato sicuramente più volte senso e responsabilità alle proprie azioni. Quindi sappiamo che c'è stato un impegno massimo e bisognerebbe anche riconoscere da questo personale piuttosto che minacciare sanzioni. I sindacati confermano sin d'ora la disponibilità a dialogare, a confrontarsi con il governo per individuare soluzioni che tutelino la salute di tutti. Cambiamo argomento, Isernia al voto, Fratelli d'Italia chiarisce ancora una volta la propria posizione dopo aver proposto un proprio candidato di partito nella persona del coordinatore provinciale Alessandro Altopiedi dice il coordinatore di Sandro e non avendo avuto condivisione sul nome da parte degli alleati di centrodestra e dirigenti provinciali del partito sentiti consiglieri ed assessori comunali uscenti hanno deciso di sostenere il candidato civico Cosmo Tedeschi. Siamo stati sempre convinti che il candidato sindaco per la città di Isernia dovesse essere indicato da Fratelli d'Italia per una serie di ragioni e tra queste quella che dopo Termole e Campobasso rispettivamente assegnate a Fratelli d'Italia e Lega per Isernia dovesse essere un esponente di Fratelli d'Italia le parole di Sandro. Purtroppo per una serie di ragioni gli alleati di centrodestra non hanno condiviso la scelta proposta e a questo punto il partito ha deciso di sostenere la proposta civica di Cosmo Tedeschi, persona seria, moderata, imprenditore di successo dice di Sandro che conosce molto bene i problemi della città e siamo sicuri che saprà insieme alla propria squadra amministrativa dare delle risposte ai cittadini. Stiamo lavorando alle liste dei programmi per la città con l'ospicio che questa coalizione possa ampliarsi quanto più possibile con tutte quelle forze moderate disponibili che credono nella possibilità di un percorso comune con Tedeschi sindaco dunque Fratelli d'Italia appoggia Tedeschi mentre il centrodestra sempre più spaccato ed è sempre più probabile che presenterà più candidati. Restiamo a disernia, restiamo sull'argomento qual è invece la situazione nel centro-sinistra nelle prossime ore, nuovo e probabilmente decisivo tavolo, il Partito Democratico sta spingendo forte su Piero Castrataro a meno di clamorosi ribaltoni, sarà lui dunque il candidato sindaco della coalizione, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Prevenzione incendi in vista di Ferragosto e considerando anche il caldo eccezionale di queste ore, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha firmato un'ordinanza valida fino al 30 settembre che riguarda terreni agricoli e boschivi lungo le strade comunali, provinciali statali ricadenti nel territorio comunale dove è fatto di vieto di accendere fuochi, usare apparecchia fiamma libera o ad alimentazione elettrica che possano emettere scintille e compiere ogni altra azione che possa generare fiamme libere. Inoltre impone obblighe ai proprietari dei terreni e di serbatoi di gasolio. Chi sarà considerato responsabile di procurato incendio rischia una sanzione fino a 10.000 euro e una denuncia. Prima di Gravina a prendere provvedimenti simili erano stati il governatore Toma con un decreto che riguarda l'intero territorio regionale e il sindaco di Termoli Roberti che ha vietato Falò durante il mese di agosto. San Vincenzo al volturno come Pompei, lo ha detto il professore Richard Hoggs, intervenuto ad un incontro teso a sfruttare i fondi del PNRR per valorizzare l'importante sito archeologico. Sentite tutti i particolari del servizio. È un bel progetto, spero si va avanti. Questo posto è un posto eccezionale, è proprio un Pompei del periodo in Europa e c'è la possibilità con tutte le varie comuni in questo terreno, questo alto volturno, di creare un tipo di alto adage pieno di turismo, pieno di opportunità per occupazione e francamente di fare le cose che sono giuste per un sito così famoso in Europa. San Vincenzo come una piccola Pompei ancora non c'è altro posto in Europa, così a dirlo lo avete sentito il professore Richard Hoggs, presidente emerito dell'American University at Rome e direttore dell'Istituto di Archeologia Mondiale presso l'Università dell'East Anglia. Il progetto San Vincenzo entrò nel vivo nel 1980 quando il giovanissimo Hoggs, all'epoca docente dell'Università di Sheffield, portò alla luce la cripta di Epifanio e del monastero sulla sponda occidentale del fiume. Gli scavi proseguirono fino agli anni 90 anche con il contributo della soprintendenza del Molise. Per me lo scoperto della cripta di San Vincenzo Maggiore nel 1994 era un momento il 10 agosto, proprio oggi, il 10 agosto 1994 e lì con Padre Abate abbiamo fatto una massa ricordando soprattutto quelli matri persi nell'attacco di 881. Per me è un momento magico. Un patrimonio inestimabile che però non ha portato quell'impulso in termini di marketing, di turismo, di economia che un sito del genere meriterebbe. Servirebbero investimenti importanti per valorizzare lo scavo e per fare di San Vincenzo un punto di riferimento per l'intera Europa, dove trovare le risorse, i fondi del PNRR rappresentano un'opportunità unica e irripetibile, se ne è parlato in un convegno che si è svolto presso l'abbazia di San Vincenzo al Volturno. Naturalmente adesso non ci sono ancora dei piani ben precisi ma la presenza di Monte Cassino e di riflesso dell'abbazia di San Vincenzo al Volturno che è proprietà di Monte Cassino vuol proprio significare questa attenzione per il territorio. Ecco, probabilmente non ci si ricorderà ma già due anni avevamo stilato un protocollo d'intesa, cosiddetta Revivicenzia, Terre Santi Vincenzi che mirava proprio alla valorizzazione di questo territorio anche dal punto di vista economico, non solo turistico e spirituale. Per cui la presenza dell'abbazia vuole essere di incoraggiamento per i progetti che si andranno a delineare ed essere presente all'interno di questo insieme di comuni che concorreranno, ecco a Dio piacendo e con le forze che metteremo in campo in maniera sinergica a rendere questo nostro territorio più appetibile e soprattutto incrementare anche la presenza di offerte lavorative per i nostri giovani. Io ho una bellissima esperienza come area interna, noi 13 sindaci dei comuni dell'area interna abbiamo ben deciso di mettersi insieme per poter rispondere a questo bel progetto che lo Stato ci ha offerto. La situazione sposa molto bella, area interna e progetto PNRR è una bella unione, dobbiamo lavorare, dobbiamo buttare questo seme per poter raccogliere sperando che insieme riusciremo a sviluppare la Valle del Volturno. Il consigliere comunale Alberto Tramontano, capogruppo della Lega Campobasso, interviene sull'utilizzo che definisce selvaggio e scriteriato e pericoloso dei monopattini in città. Prima che accada l'irreparabile occorre agire con tempestività e risolutezza attraverso azioni mirate. Per Tramontano la Giunta Comunale ha approvato un regolamento che alla luce del disordine a cui assistiamo quotidianamente va ritirato e riscritto. È necessario che la parola venga data al Consiglio Comunale di Campobasso che rappresenta la comunità cittadina al fine di trovare soluzioni condivise ed efficaci al far west causato dall'utilizzo improprio e pericoloso dei monopattini. Pertanto Tramontano ha presentato un ordine del giorno che va in direzione apposta a quella attuale. Restiamo nel capoluogo di regione musica, spettacoli, comicità. È stata presentata questa mattina la nuova edizione di Campobasso Summer Festival. Gli eventi sono in programma dal 21 al 24 agosto e si terranno tra il Parco De Filippo e Piazzetta Palombo Andrea Vertolo. Parole in musica, questo è il titolo dato alla nuova edizione del Campobasso Summer Festival in programma da sabato 21 a mercoledì 24 agosto con certi presentazioni di libri ma anche comicità con l'ospite speciale Valerio Lundini che chiuderà la Kermess. Due le location che ospiteranno gli eventi. La principale sarà nel quartiere San Giovanni nel parco intitolato a Edoardo De Filippo. L'altra in Piazzetta Palombo dove ci sarà la presentazione del libro I tempi di battiato di Nicolas Ciuffelli. L'ingresso sarà a pagamento con tagliandi in vendita sul sito amtm.it. Necessario inoltre l'esibizione del Green Pass come spiegato in conferenza stampa dal sindaco Roberto Gravina e dall'assessore Paola Felice. È un festival, è la seconda edizione. Abbiamo voluto come l'anno scorso coniugare parole, musica. Ci sarà uno spettacolo teatrale, ci sarà la presentazione di un libro al compianto maestro batteato con una cover di qualità. Ci sarà poi un evento non meno importante per quanto riguarda gli appassionati di musica. Sono nomi noti anche alla mia generazione, ma anche a generazioni un po' più avanti rispetto alla mia. E poi c'è l'evento clou che è l'Undini, quindi la presenza di un personaggio noto, quindi soprattutto magari a un target più giovane e quindi speriamo di accontentare un po' tutti i palati. Soprattutto ricordandoci sempre che anche i costi che verranno richiesti sono in parte legati all'organizzazione perché sapete che dobbiamo comunque fare in modo che tutto sia rispettoso delle norme, quindi non solo il Green Pass ma anche il distanziamento. E poi come l'anno scorso il ricavato verrà destinato sempre per finalità legate al sociale, all'urbanistica, quindi all'area d'urbano, come per l'anno scorso abbiamo per esempio investito sul Parco San Giovanni per l'acquisto di giochi per bambini. E ovviamente anche per questa stagione noi coinvolgeremo a questo punto la Commissione e quindi il Consiglio Tutto per capire quali saranno le finalità di questa seconda stagione del Summer Festival per quanto riguarda gli incassi. Un cartellone ricco di sorprese perché oltre alla musica si trovano anche personaggi pubblici come Lundini, come è stato scelto il tema e il target. Abbiamo cercato di accontentare pubblici diversi, quindi pensiamo che lo spettacolo di Lundini possa essere trasversale perché può piacere alle famiglie, ai ragazzi. Ovviamente invece il target per tutti gli altri eventi è un po' più alto perché l'obbligo del distanziamento e comunque l'obbligo di essere seduti non ci consente di organizzare qualcosa per i ragazzi che però sono nei nostri pensieri quindi speriamo di poter riprendere le normali attività e poter dedicare più spazio a una programmazione più dedicata a loro. Sempre Andrea Vertolo ci parla del grande successo a Campomarino per il concerto del duo con la Pesce di Martino allo Stadio Santa Cristina. Sono stati esauriti tutti i mille biglietti a disposizione, una serata di musica trascorsa nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. Entusiasmo e grande partecipazione a Campomarino per l'evento più atteso dell'estate 2021, il concerto del duo con la Pesce di Martino ha portato il paese a riaccendersi a colpi di musica rappresentando un momento di ripartenza e di leggerezza dopo i mesi bui della pandemia, una serata diversa fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dall'assessore al turismo Michele De Giglio che nell'organizzazione si è avvalso del prezioso contributo dell'istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali. Il concerto dei due artisti, lanciati dallo scorso Festival di Sanremo e da mesi vero e proprio fenomeno mediatico musicale ha allietato i numerosi spettatori giunti allo Stadio Santa Cristina. L'impianto, allestito in modo impeccabile nel rispetto di tutte le normative vigenti, ha accolto mille persone, tutte munite di Green Pass. Una manifestazione pienamente riuscita, ha spiegato l'assessore De Giglio che ha tenuto a sottolineare come la sinergia con le associazioni locali ed i volontari sia stata determinante per la riuscita della Kermess in piena sicurezza. Colapescio e Di Martino hanno così potuto raccogliere l'affetto dei loro fan provenienti da più parti d'Italia, divertendosi e facendo divertire un pubblico variegato tra giovani e meno giovani che hanno potuto così arricchire la propria vacanza sul litorale molisano. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per giovedì 12 agosto, un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque, venti moderati, mare poco mosso, queste le temperature del dettaglio, campo basso minima 21, massima 32, Isernia minima 20, massima 34, Termoli minima 26, massima 30, Menafro minima 20, massima 32 gradi. È tutto per questa edizione, ora linea alla regia, consigli per gli acquisti, tra pochissimo la pagina sportiva Gran Colpo di Mercato del Vasto Girardi, parleremo anche del campo basso e della Magnolia. A tra poco! Lo sport, il calcio di serie D, il mercato di serie D colpo del Vasto Girardi che ingaggia Marco Mingiano, professione centravanti, classe 1995, ex Crotone, Gallipoli, Nardò, San Giustese, nelle ultime due stagioni con Molfetta e Dertona. Mancino dal piede delicatissimo, il nuovo acquisto, colpo di mercato del DS Francesco Cangi, avrà l'arduo compito di non far rimpiangere Silvio Mercai, ceduto all'Intella. Con Mingiano, Salatino e Guida, l'attacco giallo-blu è messo benissimo, anche se il presidente, Andrea Dilucente, annuncia che la società è vigile sul mercato e se ci sarà un'occasione per valorizzare ancora di più il settore offensivo, non ce la lasceremo sfuggire. Con Mingiano spiega, abbiamo aggiunto un tassello importante alla nostra rosa, ma potrebbe esserci anche qualche altra sorpresa. Ed ora il calcio di Lega Pro, Campobasso in campo, il 21 in Coppa Italia a Grosseto, il 29 in campionato con l'esordio, in trasferta ad Avellino. Vediamo la schermata con il primo turno del raggruppamento C della Lega Pro. Avellino Campobasso, come vi dicevo, Catanzaro, Virtus, Francavilla, Fidelis, Andrea, Juvestabbia, Monopoli, Catania, Monterosi, Foggia, Paganese, Messina, Palermo, Latina, Potenza, Bari, Taranto, Turris e Vibonese, Picerno. E a proposito del Campobasso, c'è la firma di un nuovo giocatore, si tratta del giovanissimo portiere Stefano Cocco, estremo classe 2003, proveniente dal Pro Sesto, che dunque va ad aggiungersi ai giocatori in rosa. È di fatto il terzo portiere, il Campobasso ne aveva bisogno e così lo ha ingaggiato. Dunque firma anche Stefano Cocco, portiere classe 2003. Restiamo sempre a parlare del Campobasso, ascoltiamo le prime parole dell'attaccante, Michele Emmausso, attaccante dei Rosso-Blu, che dice Campobasso, scelta giusta, lo ha intervistato Franco Presutti al termine dell'amichevole contro la Juve Stabia. Sentite. Non vedevo l'ora di arrivare qui, so bene Campobasso che piazza è, che piazza è stata in passato. L'impressione dell'amichevole è stata una partita combattuta a buoni ritmi, siamo agli inizi quindi è normale, un po' anche di stanchezza, qualcuno che sbaglia, però credo che possiamo divertirci, siamo una squadra giovane ma con tanta qualità, quindi possiamo dire la nostra in questo campionato. Sono gare amichevoli e quindi il risultato insomma conta ma fino a un certo punto, però ho visto che poi c'è stato anche qualche colpo duro in campo, quindi entrambe le squadre ci tenevano a fare bella figura. Secondo te qual è l'impatto che hai avuto arrivando qui in città, in questo stadio, in questo ambiente? L'impatto è stato subito positivo, comunque vedi stadio bello, grande, ripeto sapendo quello che è Campobasso, la città di Campobasso, i tifosi, non vedevo l'ora di arrivare qui, sarà un anno duro per tutti sicuramente, però dobbiamo mettere sempre impegno e dobbiamo divertirci, basta, con sprensieratezza. Sono tutti veramente dei bravissimi ragazzi, si sa che in un campionato il gruppo è fondamentale, bisogna volersi bene tutti quanti e rispettarsi, conoscevo già Kevin Magri di Campobasso, Giacomo Parigi, poi conoscevo Luigi Mandragora, qua secondo me si crea un clima familiare, possiamo stare tutti bene, veramente possiamo divertirci, lo ripeto. Ed ora andiamo in eccellenza, ascoltiamo le dichiarazioni del capitano dell'Isernia Salleucio, Vincenzo Mingione che carica l'ambiente, Isernia che ha fatto le cose per bene, vuole vincere il massimo torneo regionale, lo ha intervistato, l'adetto stampa del club bianco celeste Pietro Ranieri. Capitano Vincenzo Mingione, oggi si ricomincia con il raduno, il primo raduno della nuova società città di Isernia San Leucio Rocca Sicura in previsione della nuova avventura per l'eccellenza 2021-2022. Qual è il sentimento negli spogliatoi, come sta andando la preparazione di questo nuovo campionato e tu come ti senti alla vigilia? Diciamo che la vigilia per me qui a Isernia è come un primo giorno di scuola, però devo dire la verità, abbiamo trovato subito un ambiente carico, voglioso, staff all'altezza, alla grande e ho trovato soprattutto giocatori che già conoscevo, che ho conosciuto ora e ci siamo subito, devo dire, già dai primi minuti che ci siamo incontrati abbiamo già scherzato e parlato, quindi spero che si crea davvero un grandissimo gruppo. L'ultima avventura di campionato purtroppo non è finita come si sperava, però tutto lascia sperare che questo nuovo campionato possa portare al risultato che tutti quanti ci aspettiamo. Vuoi dare un messaggio anche per i tifosi bianco-celesti che sono sempre così presenti anche dopo l'anno che abbiamo appena passato, che non sono potuti essere precisi sempre tutte le domeniche al campo? Sì, abbiamo avuto comunque la conferma anche nella finale del 19 giugno, comunque sono arrivati in massa lì allo stadio. A loro comunque dico sempre, come già ho parlato con qualcuno in questi stati, di starci vicino, vicino ai giocatori, vicino alla società, perché questa società merita veramente gente, tifosi come l'Isernia, perché sono persone serie, vogliose, che vogliono riportare l'Isernia dove merita. Quindi noi siamo pronti, ci prepareremo al meglio per dire la nostra in questo campionato. Poi purtroppo dell'anno scorso ce lo lasciamo già alle spalle, perché il calcio è bello per questo, ci dà subito la possibilità di ripartire, di riniziare un nuovo campionato. Chiudiamo con il basket femminile di Serie A. è stata ufficializzata la prima giornata del nuovo campionato. Con la grafica vediamo gli incontri in programma. Dinamo Sassari, Costa Marsnaga, Faenza Moncalieri, Magnolia, Campobasso Empoli, dunque esordio per la formazione di Mimmo Sabatelli contro Empoli, Ragusa Sesto San Giovanni, Schio Lucca, Venezia Broni e Virtus Bologna, San Martino di Lupari. Bene tutto, anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci. Grazie.